In questo video ho poche chiacchiere, non c'è bisogno di tanto intro, c'è bisogno solamente di dire Lascia un mi piace a questo video sulla fiducia e tagga i tuoi amici qua sotto Parto subito col video e capirete perché Avete capito perché? Ebbene sì, perché Daniele De Martino ha fatto una canzone con Oscar di Gianni Celeste Signorine, ufficio alla porta questa qua, non sbagliate eh Sì anche l'uomo fondamentalmente Sicuramente questo tipo di faccia qua si può usare con tante scene di film, ma vediamo subito Wendy, sono a casa pure Se troppo spucaccio una cosa fa pure figlia Sì, panna sì cosa Quelle sono le tigri ragazzi Qualcuno dia un bacio a quest'uomo allora per favore Che senso scusami non ne ho capito perché ha legato a sta cosa Tu sei bellissima Tu sei da con Giannavallo che risulta E' dedicato a mascherini sta canzone Ah stai pittando come una zocca però, un corso doi Ho litigato con mia moglie Io vi racconto a giulato Non tenerei Ma che sa l'incaduto il tuo sesso Sarra simpatico il mio gesso Gli stonca trappare st'amore E' una bomba di sesso, sesso si Si l'ha incontrata a Gianni Solo quando me tocco fa morire Lei non l'ha voluto toccata Ma tutto non fa senso E' una cosa che non so più evitare Me la devo bombare Non so più cosa farà Tu sei bellissima La mia amante mamma Una fattina zoccoleggiante Ma non capisco perché due persone Debbano parlare della pericolosità Delle donne Indana, Jeep, Fodacapot, Mizzanater Ma su particolare cosa me Chi sa se le piace si ha regalo un mese Ma se fosse un cazzato fa cagno rupe Fa cagno rupe Ma cagno rupe Ah quasi scusate scusate non lo so più Non ne ho ma Avrebbe perfettamente senso Non ne ho mai No, ti denunci un po' truffo Quando mi bacia il corpo non capisco con niente Lo metteremo ovunque pure in mezzo al dente Rimango fermo e zitto e muoio anni che stante Adio, scusate da chi sta a capi Ci sarà Chi lo va bene sarà Quando ti diciamo forse non lo so Sì, questo concetto continua a non capirlo Ma sono sempre qualcosa Guardate come cambierebbe la scena Facendo solamente questo in montaggio Già Ho litigato con mia moglie Ah boh ma su cosa tu? Cioè poi poi ho parato Sembrava che stia spuntando una cosa Invece è stata una mano a bottonare La ripresa altezza follicolo I have a league, rock and fly Sei una bomba di senso, senso sì Si ma che senso, j'ai fatto a radiografi Sudo qua non mi dò che va a morir È una cosa che non so più evitare Non so più cosa fare Lo fare Tu sei fai Tu è bellissima La mia amante non vuoi Vabbè un'amante magica l'abbiamo avuto tutti no? All'isola che non c'è pudore E sto ne vanno Smettano un po' di cappotto Abbuffano i parola che li doi E poi sto ne vanno Signorina Che cos'è questo? Il giro del mondo è una parola? Fratmo? Sta cerentino, che dici? Minchia culo Per una volta Non l'avrei mai detto nella mia vita Mavraj Beh, sapevo che non c'era bisogno di parole Prima di cominciare questo video Si poteva cominciare il video e basta Ma io ti ringrazio sempre per essere stato fino alla fine con me E ti ricordo sempre che è importante che tu lasci un mi piace E taghi quanti più amici possibili sotto a questo video Che è veramente importante Tu pensi che non è niente Perché tu non sei l'amante magica Io gioco la vita che tu non sei l'amante magica Lascia un mi piace e tagga un tuo amico Io vado a cercare un'amante magica e vengo E seguimi su Instagram, ciò c'è la youtuber Mi raccomando, che lì metto le fotografie magiche State bene!